buonasera a tutti i telespettatori di le fonti tv e ben ritrovati con questo primo appuntamento dell'edizione autunnale di le fonti e world 2020 decima edizione si tratta di un vero unicum possiamo usare veramente questa parola nella storia delle premazioni in italia e non solo infatti partiremo con l'assegnazione di alcuni riconoscimenti attraverso questo speciale televisivo direttamente dai nostri studi in centro a milano in piazza cordusio sono orgogliosa lasciatemelo dire di far parte della prima tv nazionale che ha deciso di dedicare non una sola serata ma intere settimane di programmazione dedicate proprio alle eccellenze italiane dalla finance e tax tv week e l'assicurazione risparmio tv week in cui ci troviamo fino ai prossimi appuntamenti dedicati a ai e 5g penale di impresa mondo del lavoro e trading le fonti tv si riconferma infatti l'unica live streaming televisione in italia in grado di vantare un palinsesto all news focalizzato nelle tematiche economiche di politica del business finanziare e legali e nell'infotainment tutto questo ha contribuito per il quarto anno consecutivo a consacrare le fonti tv come la prima televisione su economia politica e professioni e la crescita del gruppo le fonti è testimoniata dall'inserimento della classifica di prima comunicazione redatta da comscore al ventesimo posto tra i 100 siti di informazione più seguiti in italia e al secondo posto nel settore di economia e finanza ma adesso arriviamo a questa serata che cosa succederà vedremo la proclamazione di eccellenze nel campo professionale della consulenza del banking and finance e dell'imprenditoria con focus speciali su settori in questo momento ancora più strategici health and pharma e hr io annuncerò la categoria di riferimento poi naturalmente la motivazione e il nome del vincitore e poi ci collegheremo con il vincitore stesso che commenterà questo riconoscimento unico che potete vedere qui accanto a me e che riporta proprio riproduce il logo stesso di le fonti macro categoria studi e boutique legali e professionali categoria diritto del lavoro il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno diritto del lavoro contratti di agenzia e prima di andare a vedere chi è il vincitore leggiamo la motivazione per la professionalità la schiettezza e la deontologia che portano lo studio a risolvere anche i casi più complessi per la gestione del lavoro in modo serio e puntuale e per la grande sensibilità verso i problemi e le difficoltà dei clienti the winner is studio legale fasano e collegate con noi adesso le vedremo subito l'avvocato angela maria fasano avvocato senior dello studio legale fasano eccole qui le vediamo tutte l'avvocato stefania fasano l'avvocato valentina da leo e l'avvocato floriana giocondo ben trovate a tutte e quattro grazie un grande piacere avervi con me in questa edizione degli awards e io chiederei subito un commento a caldo magari ad angela siamo molto emozionate però devo dire che con lo staff e con questo gruppo posso soltanto dire che è un momento da ricordare soprattutto per il periodo buio e nero che stiamo attraversando questo del covid che però in relazione a questo lavoro di squadra che abbiamo portato avanti e mai mollato non ha diciamo abbattuto la guardia dello studio quindi posso soltanto ringraziare floriana stefania valentina per l'ottimo lavoro che hanno portato e che stanno diciamo portando al nostro studio professionale e per portare dei risultati questo per noi è come un sogno perché il diritto del lavoro è la materia che trattiamo maggiormente all'interno del nostro studio professionale e lo trattiamo appunto con una punta di passione ma soprattutto con una punta di cuore perché il diritto del lavoro e poi benedita che rispetto alla sembranza del diritto vanno a toccare direttamente l'uomo, la persona e capiamoci rendiamo conto quanto si è dedicato messo e spiegando di quella persona che è dovente si viene a rivolgere a noi per risolvere un problema quindi non è sempre facile raccordarsi con queste tipologie di cause sono cause di licenziamenti, di mobbing, cause inerenti al diritto scolastico dove tanti docenti hanno sito delle restazioni e quindi nel diritto del lavoro c'è quell'essere umano, quell'essere uomo che rispetto appunto a quelle altre branche merita una forma di città che è un punto anche giuridico ma soprattutto morale perché ovviamente la gente deve essere toccata, accrezzata, completata e professionalità ed oggi questo risultato che fregna sicuramente i nostri sacrifici perché sono qui tanti, notate sui divideri, sui fascicoli, la possibilità di non stare sempre con le nostre famiglie perché sappiamo che la vita della produzione sicuramente è molto impegnativa soprattutto per una stappa femminile. Ecco noi oggi possiamo dire che grazie diciamo al nostro lavoro, studio regale fatame femmina, si può utilizzare di questo importante riconoscimento, siamo veramente onorate e continueremo a dare il meglio di noi sempre per la tutela migliore dei nostri clienti perché per noi il cliente viene sempre al primo posto ed è quella finta giuridica psicologica che ci permetterà di fare sempre meglio. Avvocato quello che lei dice, quello che voi dite perché poi lei è la portavoce ma insomma queste parole avrebbero potuto dirle anche le altre colleghe, si riaggancia alla motivazione che abbiamo letto prima quindi abbiamo letto sensibilità verso i problemi delle persone e poi il tema del lavoro e quindi entrambe le cose che soprattutto in questo contesto, in questo momento attuale diventano ancora più rilevanti insomma, anzi centrali più che rilevanti, ancora di più. Sì sì, molta gente ha perso il posto di lavoro, ci è toccato in questi mesi di dover aiutare appunto queste persone e le posso assicurare che anche se noi abbiamo un approccio professionale siamo sempre gli esseri umani e quindi ci rendiamo conto veramente della situazione critica che sta attraversando il nostro paese, questo rapportato al lavoro è sempre un passo difficile da tenere perché i sentimenti sono anche importanti all'interno di questa professione soprattutto per chi si appresta a tracciare proprio la materia del diritto del lavoro perché come dicevo prima si tratta di un bene vita, senza il lavoro non c'è l'essere umano nella sua dimensione anche comunitaria e quindi essendo un bene vita a noi tocca questo importantissimo e derivatissimo compito e ci sentiamo giornalmente responsabili di questa situazione, quindi alla vita altrui. Certo, beh insomma io vi saluto con una parola che può essere un augurio insomma e anche un buon auspicio visto che si parla anche tanto di sinergia di fronte a me o voi, in quattro un bel team insomma emerge proprio questa unità e in questo contesto, torno a ripetere, è ancora più importante, quindi complimenti per questo premio e insomma al prossimo, questo è quello che mi sento di dire. No, ovviamente ci speriamo. Va bene, io vi saluto ancora tutte l'Avvocato Angela Maria Fasano, l'Avvocato Stefania Fasano, l'Avvocato Valentina D'Aleo e l'Avvocato Floriana Giocondo, grazie e complimenti ancora. Grazie a voi. Grazie. Macro categoria studi e boutique legali e professionali, categoria diritto del lavoro. Il premio è boutique di eccellenza dell'anno, diritto del lavoro, relazione industriale e contrattazione collettiva e andiamo a leggere la motivazione. Per rappresentare da sempre un punto di riferimento nazionale per l'assistenza specialistica in ambito gius lavoristico. Per l'innovazione nell'approccio, l'elevata assistenza e la competenza che rafforza il valore del contributo professionale a disposizione dei propri assistiti. Il premio va a... Studio Legale, Marazza e Associati. Saluto in collegamento con me, Domenico De Feo, socio dello studio legale. Bentrovato, grazie per essere qui. Grazie, bentrovati a voi. Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento e ringrazio anche a nome del mio collega Marco Marazza e di tutto il nostro studio. Grazie, infatti la mia prima domanda, ma giustamente l'ha fatto da solo, sarebbe stata questa, un commento a caldo sul premio e a questo punto le faccio un'ulteriore domanda, proprio perché questo premio arriva anche, insomma, se mi consente in un momento decisamente particolare e storico per il nostro paese. E allora, rifacendomi un po' anche alle parole che abbiamo ascoltato nella motivazione, ce ne sono alcune che rappresentano al meglio anche questo momento e questo momento particolare. Cioè, un punto di riferimento, siete voi, un punto di riferimento nazionale per l'assistenza specialistica, naturalmente, e poi si parla di innovazione nell'approccio. Ecco, le chiedo qualcosa di più rispetto a quelli che sono i vostri obiettivi. Sì, beh, io penso che questo difficile momento che stanno vivendo le imprese e in generale il mondo del lavoro richieda un po' una ridefinizione della figura dell'avvocato giustlavorista, che deve un po' orientarsi, e questo è anche un po' l'aspetto innovativo di cui parlavamo, noi, nel ampliare i servizi che vengono dati alle imprese. In quest'ottica di ampliamento, noi abbiamo ritenuto utile e importante, dando un approccio interdisciplinare alla nostra materia, allearci anche con uno studio consulenti del lavoro, per cercare di dare alle imprese un servizio integrato di assistenza, che investa anche aspetti quali il labor costing, aspetti fiscali e previdenziali, e che possa quindi supportare a 360 gradi le nostre assistite. Infatti, infatti, rilevata assistenza, abbiamo ascoltato questo nella motivazione, un'ultima cosa, insomma, perché in un contesto come quello che stiamo vivendo, sarà retorico dirlo, ma insomma non più di tanto, sono cambiate anche le esigenze, quindi è importante stare al passo con questo cambiamento. Sì, è proprio così, bisogna adeguarsi, adeguare l'organizzazione, avere riguardo ai mille problemi che si creano per effetto della disciplina emergenziale. Proprio in questo l'avvocato gius lavorista deve intervenire, adeguando la misura e l'approccio ai problemi in continua evoluzione delle aziende. Insomma, io non posso far altro che complimentarmi con voi, naturalmente con lei e con tutto il suo team, che insomma ogni giorno lavora in questa direzione. Grazie a voi, veramente. Grazie, grazie a Domenico De Feo, socio dello studio legale Marazza e Associati, per questo riconoscimento. A presto. Buonasera. Categoria Trading Il premio è Forex Broker dell'anno. Andiamo a leggere subito la motivazione. Per essere un broker in grado di offrire oltre mille CFD su Forex, indici, azioni, materie prime, tassi finanziari, ETF e opzioni. Per l'innovazione attraverso l'utilizzo di tecnologie e infrastrutture ideali a creare un ambiente di trading ottimale e per il sostegno e la fiducia dimostrati costantemente dai clienti. Il premio va a ActiveTrades. Salutiamo con noi Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActiveTrades. Carlo Alberto, è un piacere ritrovarti. Piacere mio, piacere mio. Insomma, cosa significa questo premio per voi nel panorama attuale soprattutto? È stato senz'altro un anno particolare e adesso di confermarsi ad una posizione di leadership a livello per quanto riguarda il trading online è senz'altro qualcosa che ci fa estremamente piacere. Questo significa anche il grande interesse, il grande affetto che i trader ci dimostrano e è qualcosa di significativo per l'azienda ci fa capire che stiamo muovendoci nella direzione in cui c'è niente di orgoglio. L'interesse per il trading online è sempre più vivo, insomma, quindi ancora di più e soprattutto in un momento in cui proprio per questo interesse più elevato si deve selezionare a chi rivolgersi. Quindi, insomma, in questo senso vado a sottolineare ancora di più quello che abbiamo letto nella motivazione. Nella motivazione abbiamo anche, come dire, portato all'attenzione la capacità di innovare, di riportare sempre in superficie l'importanza di avere delle infrastrutture che possano essere, appunto, innovative. Beh, direi che questa è la direzione in cui si è mossa il trade cercando di non soltanto seguire quelle che sono le direzioni dei clienti, quindi le richieste dei clienti ma anche di anticiparle, di essere leader e anche di cercare di fare il mercato in queste direzioni. Quindi l'abbiamo fatto lanciando la nuova piattaforma ArtiTradia che ormai non è più nuova perché ha già un buon anno ed è già testata e utilizzata da molti investitori e ampliando la gamma dei prodotti offerti fra le innovazioni di quest'anno per esempio c'è, oltre al CFD sul future per il BTI il brand era anche quello sul prezzo sport del petrolio visto che il petrolio è stato uno dei temi centrali dell'anno scivolando il territorio negativo un po' di mesi fa ma al di là di questo proprio la tematica è legata all'innovazione e il fatto di cercare di essere innovativi sia dal punto di vista tecnologico che anche con il rapporto con i clienti e questa è una delle strade seguite da T-Page dall'origine in particolare in quest'anno che vorrebbe piacere d'altro anche per conquistare questo riconoscimento Beh, anche il tema della fiducia dei clienti non è cosa scontata in questa situazione giusto per concludere infatti perché appunto fiducia che è molto penalizzata dalle circostanze e quindi ancora di più insomma, caro Alberto De Casa come guardare al futuro in questo modo seguendo questa direzione direi? Senz'altro per la T3C ma hai toccato un tema importante perché anche quando si parla di fiducia nel terreno online questo è importante molto significativo e di tanto in tanto la consul fa anche delle liste di broker che vengono bannati via dicendo e io credo che sia molto importante continuare a spingere in questa direzione anche gli investitori affinché verifichino affinché si rendano conto affinché siano consapevoli anche nella scelta più che nelle scelte di investimento o meglio anche nelle scelte di investimento ma prima ancora delle scelte di investimento anche nella scelta del broker per essere sicuri di capitare nelle mani giuste mettiamola così affidandosi ad aziende serie e regolamentate grazie caro Alberto De Casa e complimenti ad ActiveTrades per questo riconoscimento grazie grazie macro categoria imprese categoria HR il premio è HR team dell'anno bioingegneria andiamo a leggere subito la motivazione per essere per essere la più grande azienda al mondo nell'ambito delle tecnologie mediche per contribuire costantemente al benessere umano applicando l'ingegneria biomedica alla ricerca alla progettazione alla produzione e alla distribuzione di strumenti o apparecchiature per alleviare il dolore ridare la salute e prolungare la vita il premio va a Medtronic Italia e ritira il premio Alessandra Maria Sama HR Director di Medtronic Italia ben trovata Alessandra ben trovati a voi intanto le chiedo subito un commento a caldo poi magari torniamo sulla motivazione per estrapolare le cose più importanti guardi sono molto contenta di ricevere questo premio a nome di tutto Medtronic Italia e di tutti i colleghi che si impegnano ogni anno e ogni giorno per realizzare quello che lei ha poco fa citato che è un po' la nostra mission quello di avere il paziente al centro e di migliorarne la salute e ridare speranza a tanti attraverso le nostre apparecchiature biomedicali quindi siamo molto ben contenti grazie grazie naturalmente mi ricollego anche a quello che lei ci sta dicendo e soprattutto contestualizziamo questo premio nel periodo che abbiamo vissuto chiaramente perché quando parliamo di eccellenze le eccellenze solitamente rimangono eccellenze ripeto questa parola nei momenti di sconforto e magari nei momenti più difficili visto che parliamo di sofferenza dolore ancora più importante nel contesto del covid insomma per non girarci troppo intorno assolutamente sì noi devo dire che fin da quando è iniziata la pandemia non ci siamo mai fermati nonostante il lockdown abbiamo continuato a servire pazienti ospedali abbiamo portato loro i nostri prodotti le nostre terapie e quindi il senso di responsabilità sociale è stato ancora più forte durante il periodo del lockdown quindi mai come in questo momento abbiamo sentito forte ecco questo senso di forte responsabilità e quindi siamo molto ben contenti di poter contribuire all'evoluzione e allo star meglio della nostra società quindi come guardare al futuro adesso per concludere? Beh sinceramente con grande ottimismo non possiamo che fare che fare così noi ci impegniamo ogni giorno per appunto migliorare la vita dei nostri pazienti attraverso le nostre tecnologie e quindi investiamo tantissimo nell'innovazione tecnologica nella qualità dei nostri prodotti quindi dobbiamo sicuramente essere ottimisti e fiduciosi nei confronti del futuro benissimo questo è il messaggio più giusto e più corretto quindi ringraziamo ringrazio ancora naturalmente Alessandra Maria Sama HR Director di Nettronic Italia e complimenti per questo premio grazie a voi grazie macro categoria imprese categoria healthcare and pharma il premio è quello di eccellenza dell'anno consulenza health andiamo a leggere subito la motivazione di questo riconoscimento per confermarsi quale operatore trainante nel settore della consulenza strategica nei campi medico farmaceutico e bio farmaceutico per aver continuato a supportare i propri clienti nella crescita con l'obiettivo di una valorizzazione della ricerca medicale e dell'industria farmaceutica nazionale the winner is the Boston Consulting Group e noi abbiamo il piacere di ospitare Lorenzo Positano managing director and partner di The Boston Consulting Group benvenuto grazie mille grazie mille per avermi qui un commento su questo premio soprattutto in un contesto in un momento così particolare insomma dottor Positano no la ringrazio vi ringrazio tantissimo per questo premio per avercelo dato per il secondo anno consecutivo e noi siamo molto contenti perché conferma un pochino quello la nostra visione che 4-5 anni fa ha fatto investire Boston Consulting Group per l'Italia Grecia Turchia Israele nel settore health care per creare un team con competenze distintive sia per quanto riguarda tutti i sottosettori del health care quindi la parte farmaceutica la parte medical technology la parte di ospedali e sistemi sanitari assicurazioni sanitarie sia per quanto riguarda tutte le aree funzionali mi permetta di fare veramente tre ringraziamenti il primo appunto come dicevo al team fantastico che abbiamo adesso in piedi con consulenti con competenze distintive che vanno dalle consulenze mediche dalle competenze della ricerca sviluppo competenze nell'ambito del manufacturing della supply chain del procurement competenze nell'ambito del digitale quindi copriamo tutti i spettri funzionali agli altri partner della practice health care per Italia Grecia Turchia Israele che sono Giuseppe Falco Silvio Belletti e Stefano Cazzanica e a tutti i MDP managing director e partner di BCG Italia che ci hanno sostenuto in questi ultimi 4-5 anni e per finire come si dice appunto in inglese l'out but not least tutti gli componenti appunto del team di supporto di BCG a partire dal marketing dall'assistente al finance all'HR che lavorano insieme a noi giorno dopo giorno per trasformare il business dei clienti e creare valori per i clienti ecco sì assolutamente mi sembra giusto ricordare sempre il team che è la cosa fondamentale a questo punto però io dottor Positano le chiedo un'altra cosa visto che lei ha giustamente ricordato anche che è il secondo anno consecutivo che insomma questo riconoscimento vi viene assegnato mi piacerebbe approfittare di questo momento per fare un po' il punto sull'anno appena trascorso insomma quali sono stati gli step e i passaggi più significativi secondo lei sì grazie mille allora come Boston Consulting Group abbiamo ritenuto fare delle proposte concrete e reali su come migliorare il settore dell'HR in Italia e queste proposte concrete e reali sono state rese ancora più urgenti dalla pandemia che tutti noi abbiamo vissuto stiamo ancora vivendo in questi mesi e l'abbiamo fatto attraverso tre lenti la prima quella delle riforme del modello della sanità la seconda quella di come migliorare le politiche di innovazione per il settore farmaceutico il settore dei medical technology e la terza quali sono le strategie di creazione del valore pensiamo che attraverso sei macro leve sei macro azioni si possa ottenere una generazione di valore concreta e reale per i prossimi dieci anni e le sei macro leve che noi appunto abbiamo proposto e stiamo continuando a proporre al settore del care sono la promozione della digitalizzazione sia all'interno del nostro sistema sanitario sia all'interno del modello commerciale per le aziende farmaceutiche e del medical technology il focus sul valore e sull'equità distributiva dei servizi sanitari l'avvicinare i servizi ai pazienti in modo che i pazienti non si devono più spostare attraverso appunto l'Italia le regioni per avere accesso ai servizi migliore il ridisegno del sistema dei fondi di legislazione a supporto dell'innovazione l'investimento in piattaforme e tecnologie l'area terapeutica di forza e di focus su cui possiamo costruire una piattaforma di vantaggio competitivo per le aziende italiane e infine essere presenti essere più presenti in mercati che rappresentano la maggior parte del mercato del care mondiale che sono gli Stati Uniti e la Cina pensiamo che facendo leva su queste sei iniziative si può appunto ottenere un valore concreto traducendoli in alcuni numeri come ci piace appunto come facciamo noi consulenti di solito questo appunto si può tradurre in 25 mila decessi in meno all'anno che equivale circa al 5% dei decessi in meno che avviene su base annua una creazione di circa 45 mila posti di lavoro in più quindi circa il 7% o più un aumento al turnaround del settore farmaceutico di circa 15 miliardi l'anno quindi del 15-20% in più rispetto a quello che avviene già ogni anno è una crescita del 10-15% del numero dei brevetti questi numeri pensiamo siano possibili di ottenere appunto per i prossimi 10 anni ottimo quindi vede che ha unito poi quelle che sarebbero state le mie domande quello che è stato fatto nell'ultimo anno e quali sono poi gli obiettivi più prossimi per il futuro quindi direi che giustamente il collegamento è stato fatto e quindi anche il dado è stato tratto io la ringrazio moltissimo Lorenzo Positano Managing Director and Partner di Boston Consulting Group e naturalmente complimenti a tutto il team per questo premio grazie mille grazie a voi grazie 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 servizi e consulenza il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione leadership software e soluzioni IT andiamo a leggere la motivazione per essere un'eccellenza nel settore IT con una storia di 35 anni per lo sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche e di software all'avanguardia destinati allo sviluppo di grandi e medie imprese la competenza del team e le partnership strette con i maggiori player sul mercato rendono questa realtà leader nel settore the winner is project software collegato con noi e con me Marco Meneo general manager ben trovato grazie per essere qui buon pomeriggio a lei allora un commento a caldo quello che chiedo a tutti i premiati quindi lo chiedo anche a lei innanzitutto vi ringrazio moltissimo per questa premiazione che condivido ritengo doveroso condividere con il resto del nostro leadership team e con tutto quanto il nostro personale personale che da sempre accoglie con entusiasmo le sfide del cambiamento e si adopera portando veramente negli ultimi anni anno su anno risultati che mi sento di dire straordinari andiamo a riprendere parte della motivazione che abbiamo letto quindi agganciandoci alle motivazioni appunto alle quali siamo arrivate per parlare di questo premio ovviamente non posso non chiederle qualcosa rispetto alla tecnologia che è ancora di più un requisito mettiamola così richiesto per essere leader oggi con la velocità con la quale anche alcuni processi ci sono stati in questi ultimi mesi ma sì assolutamente la tecnologia riveste un ruolo determinante per quelle che sono poi le scelte strategiche che prendiamo all'interno dell'azienda noi siamo partiti tre anni fa con un completo e radicale processo di trasformazione aziendale trasformandoci da sistema integratore tradizionale a tutti gli effetti una cloud company capace oggi di poter proporre sul mercato delle soluzioni che indirizzano un intero percorso di trasformazione digitale dove chiaramente al centro c'è il cloud e al centro c'è l'utilizzo molto spinto diciamo dei dispositivi mobile e le piattaforme tecnologiche ovviamente hanno loro importanza noi abbiamo fatto una scelta su questo puntando decisamente sulla piattaforma Microsoft che offre veramente a 360 gradi i servizi cloud abilitanti per poter produrre innovazione quindi partendo da questo scenario siamo stati capaci di creare un ecosistema virtuoso al nostro interno che oltre a noi che agiamo da software house e system integrator vede anche la presenza di università e centri di ricerca che portano quella componente di ricerca necessaria per creare innovazione vede la presenza dei partner tecnologici Microsoft primo fra tutti e vede anche la presenza dei nostri clienti che rappresentano dei case reali su cui noi andiamo a costruire queste soluzioni innovative quindi il futuro per concludere sarà sempre più veloce il futuro sarà sempre più veloce e ci impone veramente di superare questo approccio che vedo un po' troppo generalizzato di lamentarsi di quelle che sono anche le cause esterne avverse e mi riferisco in particolare a questo particolare momento che stiamo vivendo tutti affetti dalla pandemia covid e quindi ci impone veramente di avere più che un approccio difensivo e quindi difensivo nel senso di vedere questa situazione anche come una giustificazione che ci porta a non impegnarci per poterla superare invece ci deve portare veramente oggi più che mai ad avere uno sguardo sul futuro e a capire cosa noi possiamo fare per superarlo cooperando anche con altre realtà e avendo sempre un occhio molto attento ed etico nel cercare di fare qualcosa per il benessere della collettività questo significa per noi creare innovazione esatto non deve essere una scusa insomma quello che accade intorno anzi deve essere in qualche modo un modo per essere spronati a far di più grazie a Marco Meneo general manager di project software e complimenti grazie a voi grazie a voi è stato un piacere macro categoria imprese categoria innovazione il premio è eccellenza dell'anno innovazione e leadership trasporti speciali la motivazione di questo premio per essere un leader nel mercato del trasporto sia stradale che intermodale per l'impegno nella qualità su strada e nella riduzione degli impatti ambientali dei processi e dei trasporti che permea la struttura aziendale a 360 gradi e per la grande attenzione al cliente e alla sicurezza vince il premio CETRAS e in collegamento con noi abbiamo proprio il proprietario nonché direttore di CETRAS Amedeo Giovannini ben trovato buongiorno buonasera buongiorno allora le chiedo subito un commento a caldo insomma per questo premio siamo molto onorati di ricevere il vostro premio è già successo due anni fa nel 2018 con l'eccellenza per i trasporti intermodali siamo rimasti molto contenti e sicuramente è un'edificenza molto ambita nel nostro settore per cui vi ringraziamo soprattutto ringraziamo il nostro staff che ci ha consentito di poter arrivare a questo punto vediamo anche il nostro premio inquadrato che poi è il vostro premio in realtà l'importanza sta proprio nel fatto io mi riaggancerei a una parola che abbiamo sentito nella motivazione a parte la parola sicurezza però sicurezza stradale ma anche quella ambientale insomma quindi doppia valenza per questo premio sì indubbiamente il trasporto intermodale riduce in maniera enorme l'impatto ambientale perché trasportando su ferrovia si riesce ad avere la possibilità di non stare sulle strade e di non generare traffico generare situazioni di pericolo anche perché noi trasportiamo tutti i materiali molto importanti cioè prodotti industriali prodotti chimici prodotti ad alta temperatura in quanto è il nostro core business e quindi toglierli dalla strada è un vantaggio per tutti anche per noi perché ci consente di stare più tranquilli e più sereni sì ma poi in un momento in cui si parla per ovvi motivi di interconnessione di necessità di aumentare anche le connessioni insomma calza pennello con quello di cui vi occupate voi certamente perfetto quindi il futuro come si guarda in questo momento l'ultima domanda ma il futuro in questo periodo noi lo vediamo sempre positivo perché comunque siamo un'azienda dinamica un'azienda sempre in movimento che cerca di di lavorare anche quando purtroppo non ci viene concesso come in questo momento di pandemia che è un momento veramente estremo però ci ci difendiamo bene e cerchiamo di di andare avanti ci vediamo una buona prospettiva e siamo certi che che continueremo a crescere benissimo allora complimenti per questo premio a Setras naturalmente complimenti a lei e a tutto il suo team grazie a Medeo Giovannini direttore di Setras e alla prossima grazie a voi buonasera arrivederci arrivederci e con questo è veramente tutto io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me e con noi a questo primo appuntamento dell'edizione autunnale delle fonti awards 2020 decima edizione e naturalmente vi aspetto anche alle prossime puntate dei nostri awards grazie e buon proseguimento a tutti voi grazie